Il messaggio che Fra Daniele oggi offre a tutto il mondo, quell'universo che si sta creando attorno a lui, che è un ulteriore, un allargamento dell'universo già grande di Padre Pio da Pietrelcina, essere cristiani migliori e credibili cittadini del mondo. Attraverso quale tipo di pedagogia? Il suo agire missionario era, a mio modo di vedere, a Gesù per Maria, sull'esempio di Padre Pio da Pietrelcina, portare a Cristo sull'esempio di Padre Pio, l'umanità. E a questo punto mi piace fare un ultimo riferimento. Quando lui entrò al convento di Vico del Gargano, rimase colpito da quel quadro e il suo sguardo si poggiò sull'angelo che conduceva il bambino a Gesù e Maria e diceva, sono io quel bambino. Col senno del poi dovremmo dire che l'interpretazione, a mio modo di vedere, di Fra Daniele non è stata esatta, perché era lui, quell'angelo, che conduceva l'umanità infante a Gesù e Maria.